Sì, per tutto quello che abbiamo fatto sarebbe bello finire l'anno vincendo la Coppa Italia, perché lo abbiamo cominciato a Shanghai vincendo la Supercopa, quindi sarebbe molto bello finire così. Non posso provalutare la partita, penso che sia questo, noi dobbiamo giocare la finale come abbiamo fatto durante tutto l'anno, bene, concentrati, allenandoci bene la settimana e non lasciare niente alle squadre avversarie. Io credo molto in me stesso, sicuramente nessuno si aspettava un'andata così, un anno così, dove ho potuto fare tanti gol, dove ho potuto vincere i campionati, quindi sono molto contento, poi sull'altro non so niente, quindi non c'è possibile. Sicuramente, al di là di tutto quello che sta succedendo, il loro campionato, penso che questa è una finale, è una partita a parte, non possiamo mollare, non possiamo regalare niente, perché sono solo 90 minuti che dobbiamo dimostrare che siamo superiori a loro. Quali sono le insidie? Non lo so, perché le convocazioni ancora non sono fatte. Dobbiamo aspettare la lista che farà Martino, certo, è sempre un piacere andare in Nacionale. Grazie.